a NG in radio più di prima l'agenzia giovani nel tuo territorio qui Agropoli Generation Ben ritrovati a tutti i radioascoltatori di NG in radio Agropoli Generation se ne parliamo di una tematica molto attuale e molto interessante inerente alla tecnologia infatti specie social con noi Roberto Esposito ciao Roberto buonasera ciao buonasera buonasera anche a tutti quanti ragazzi allora Roberto tu insomma sei considerato praticamente il mago del web potremmo dire fondatore della piattaforma Zerev che si è interessata insomma della raccolta fondi durante la pandemia cofondatore del cifoni innovation hub e fondatore della 4kip e inoltre sei riuscito a stabilire il guinness world record per insomma un numero di commenti sotto un singolo post di facebook ecco io partirei da un ultimo aspetto insomma parlareci un po' di questo record che sei riuscito a stabilire insomma come è nato questo allora il guinness world record è divertente perché è una cosa in realtà nata per caso nel senso che non volevo battere un record però io ero molto attivo sui social mentre studiavo all' università e quindi avevo un mio blog dove scrivevo un po' di cose che pensavo e le pubblicavo anche sui social in quel periodo io sono un po' più grande di voi facebook era il social principale quindi instagram era ancora appena nato quindi erano ancora social molto piccoli quindi usavo principalmente facebook per parlare con le persone c'era un bel po' di persone che mi seguivano e di conseguenza io anziché solo scrivere e far leggere e commentare agli altri inizia ad inventarmi un po' di cose per coinvolgerli e quindi per farli partecipare in maniera più attiva e quindi mi inventavo delle cose dove di fatto o facevo delle domande o inventavo delle cose partecipative dove insomma chiunque dava un contributo e un giorno girando sul web scoprì che una grossa azienda americana che si chiama zinga che è una delle più grandi aziende che si occupa di videogame online tutti quei giochini che vi capita di vedere sui social o che fanno un sacco di app quindi sul mobile eccetera vengono fatti da questa azienda che è quotata in borsa quindi è un'azienda gigante aveva fatto un post su facebook scrivendo chi commenta questo post ha un coupon di 5 euro roba del genere per giocare ai nostri giochi e quindi avere dei crediti e delle app gratuite e in questo modo tantissime persone avevano commentato questo questo loro post per avere questo coupon quasi 200 mila persone e e di conseguenza era era diventato il post con più commenti al mondo e io lessi qualche articolo che questi erano diventati con più commenti al mondo allora me venne lo sfizio di capire un po anche il mio pubblico quanto era reattivo e scrissi un post sulla mia pagina facebook solo in italiano perché poi il mio pubblico è principalmente italiano chiedendo alle persone di commentarlo per vedere quante persone rispondevano a questa cosa qua solo che poi la cosa che immaginai è se questo post va bene perché io pubblico magari un video divertente o la foto di una bella ragazza tutti mi dicono vabbè grazie merito della foto del video non merito tuo quindi dissi devo provare a pubblicare la cosa proprio più neutra e vuota che mi viene in mente e quindi pubblicai solo uno stato che diceva questo sarà il post con più commenti al mondo punto quindi proprio per vedere se riuscivo a coinvolgere le persone indipendentemente dal contenuto quindi anche su una roba vuota sostanzialmente la cosa funzionò perché poi mi studiavi un po una strategia dietro per farla crescere e questo post iniziò a essere commentato da tante persone sempre di più a un certo punto non potevi aprire i commenti perché aumentavano così velocemente che non li riuscivi a leggere arrivai un giorno che lo commentarono tipo 40.000 persone in un giorno e comunque alla fine questo post dopo un po di settimane raggiunse i 650.000 commenti e quindi quando raggiunse i 650.000 commenti io stavo bello all'università a casa mia mi chiamarono da Londra il Guinness World Record dicendo noi abbiamo visto il post che tu hai fatto devi sapere che questo è il nuovo record del mondo e quindi pensavo che mi pagassero qualcosa invece non ti danno niente ti mandano solo il certificato a casa poi ti invitano in trasmissioni radio tv eccetera quindi mi mandarono il certificato del Guinness World Record e la notizia uscì perché arrivò i giornali e il Guinness World Record soprattutto quando si tratta poi di social di digitale è una notizia che un po' interessa tutti i giornali tutti i media perché è una notizia che ne so il sole 24 ore è un giornale di finanza si mette a studiare la strategia di marketing che c'è dietro eccetera ma anche un giornale normale parla di una curiosità del web o comunque di un evento che è successo e quindi io col periodo là stavo scrivendo la tesi all'università mi iniziarono a chiamare giornalisti di ogni tipo e quindi io sostanzialmente dissi qua o mi laureo o faccio le interviste e quindi decisi però di fare le interviste quindi misi un attimo in pausa la tesi e feci 300 interviste in due mesi da tutta la stampa anche internazionale Forbes New York Times eccetera a tutta quella italiana e feci durante due mesi 300 interviste diverse che uscirono su questa cosa qua e questo record però non guadagnai un centesimo perché appunto non ti paga nessuno però il giorno dopo mi arrivarono non il giorno dopo in quei due mesi mi arrivarono 30-40 offerte di lavoro perché dato che i social stavano esplodendo le aziende stavano iniziando ad assumere i social media manager e quindi cercavano social media trovavano me che avevo fatto il record e mi chiamavano per dire vieni a lavorare da noi solo che io non l'avevo fatto per cercare lavoro né volevo fare quello là quindi rifiutai le proposte però l'unica cosa importante è che mi portò tanta visibilità e quindi di fatto tutta quella visibilità diventarono nuove persone che mi iniziarono a seguire sui social e quindi aumentò il mio pubblico di fatto quindi è nato come gioco però poi si è tramutato di fatto in lavoro quasi potremmo dire sì perché poi sì di fatto è diventato un primo un primo progetto sperimentale che ho testato così che poi ne ho fatti altri fino a farlo diventare il mio lavoro buonissimo adesso direi di passare la parola la parola ai ragazzi qualche domanda direi di partire da daniele qualche domanda sì ciao buonasera Roberto ho visto che hai studiato ingegneria aerospaziale volevo chiedere se in qualche modo è servito con tutto quello che è successo dopo oppure no assolutamente no nel senso che no per niente proprio ma perché quando mi sono iscritto all'università mi piaceva fare tante cose io volevo fare i video volevo fare cinema poi volevo scrivere e volevo studiare scrittura poi volevo fare roba legata al web e al digitale e poi era appassionato di tutto ciò che astronautica spazio esplorazione spaziale e dovendo scegliere decisi di studiare l'unica cosa che da autodidatta da solo non potevo imparare cioè dissi scrivere e fare video cioè se scrivere e scrivi non è che studi lettere e diventi uno scrittore così come fare video o lavorare col web eccetera quindi mi iscrissi alla facoltà era l'unica cosa che non potevo imparare da solo e però mentre studiavo decisi di portare avanti le altre cose in parallelo quindi mentre ero all'università io studiato a napoli di fatto seguivo i corsi studiavo e poi mi mettevo al pc e mi inventavo questi progetti tipo il mio blog poi social poi le altre iniziative il record eccetera che portava avanti in parallelo e queste cose poi nel tempo sono cresciute mentre di fatto studiavo e di fatto poi sono diventato il mio lavoro non ho più fatto quello per cui ho studiato ci sono altri primati a cui aspiri allora ne ho fatto un altro dopo un altro Guinness World Record dopo il primo perché praticamente quando feci il primo Guinness World Record mi chiamò tanta gente tra quelli che mi chiamarono ci fu anche Greenpeace che è l'associazione l'organizzazione per la tutela la salvaguardia dell'ambiente del pianeta e mi dissero noi abbiamo visto il tuo record però tu devi sapere che facebook è una delle aziende al mondo che consuma più elettricità perché tutti i server tutto gli uffici che ha consuma tantissima elettricità e per risparmiare acquista un'elettricità che viene prodotta col carbone e che costa di meno però inquinante anziché elettricità prodotta con le ponti rinnovabili noi vogliamo sensibilizzare facebook a usare l'energia pulita quindi inventiamoci una campagna e decisi di dargli una mano e insieme decidemmo di fare una campagna su facebook però contro facebook perché un'azienda è molto più sensibile se sono i suoi clienti a segnalarvi un problema nel senso se io ho un'azienda che fa una roba e gente che non compra i miei prodotti mi dice tu stai sbagliando a me non me ne frega nulla perché non perde clienti se invece sono aziende miei clienti che mi dicono sta roba non ci piace io sono più sensibile e pronto ad ascoltarli per dire mola cantiamo per farvi contenti su facebook i clienti sono gli utenti cioè siamo noi che siamo iscritti quindi se un problema facebook lo segnala uno che non lo usa facebook non gliene frega nulla quindi l'idea fu quella di fare una campagna contro facebook ma su facebook stessa fatta dagli utenti di facebook e quindi creammo una pagina sulla cosa di greenpeace e un po come aveva fatto col mio record scrissi un post per sensibilizzare facebook a usare le energie pulite scriviamo questo post chiedendo alle persone di commentarlo però anziché andare lì sul numero di commenti andammo sul fatto che i commenti venivano fatti tutti contemporaneamente però un'ondata questo perché all'interno delle aziende haiti che lavorano con internet con il digitale anche nella mia che hanno un sito web hanno una piattaforma come un social network che ci sono dei analisti che controllano il traffico di quella piattaforma quindi proprio l'andamento di quanti utenti ci sono in quel momento se a un certo punto nel traffico normale c'è un picco che schizza in alto perché tutti gli utenti sono andati su una pagina o hanno cliccato la stessa cosa allora gli analisti proprio il loro lavoro è andare a capire che è successo in quel momento a quell'ora in quella pagina e fare proprio un protocollo un documento che dice alle ore 17 si è verificata un'anomalia perché 10.000 persone sono andate tutte sulla pagina di questo tizio a scrivere questa cosa allora io decisi di provocare questo questo picco intenzionalmente e quindi quello che facciamo noi è scrivere un post sulla pagina di Greenpeace e chiedere a tutte le persone di andarlo a commentare tutti nello stesso preciso istante però questa volta non solo in Italia ma in tutto il mondo quindi per tre mesi servirono solo per sincronizzare i fusi orari perché uno che si collegava dal Brasile si doveva collegare un'ora diversa da quello del Giappone o dall'Italia eccetera comunque quando partì questa campagna 80.000 persone contemporaneamente tutto il mondo andarono a scrivere un commento a questo post di Greenpeace e questo post di fatto creò una sorta di rallentamento in Facebook perché era una sorta di sovraccarico per cui Facebook andò ad indagare per capire che era successo vide questa protesta e chiamò Greenpeace in California e firmarono un accordo per cui poi dal 2012 Facebook ha usato solo energia pulita e questo post qua divenne un altro Guinness World Record che è il post su tutto il web con più commenti in meno di 24 ore cioè in un giorno e quindi divenne un altro record però anche questo qua non era nato per dire voglio fare un record era nato per dire faccio iniziativa e poi è cresciuta e diventare un record quindi per i prossimi primati diciamo non è che dico voglio battere questo record ma voglio fare delle cose che ovviamente hanno risalto e hanno visibilità poi se battono record meglio ancora però allora record su record insomma allora direi di proseguire con la scaletta e di passare la parola a Chiara ciao piacere ciao ti volevo chiedere visto che ci sono tanti giovani che in questo momento stanno comunque tentando di accedere a questi a questo mondo di Instagram di Facebook con video e quant'altro potresti dargli uno spunto un consiglio anche noi con i nostri corsi i corsi che hanno seguiti i ragazzi comunque per agevolarli in questo settore visto che oramai questa è la base della della comunicazione allora sì diciamo che però allora tanti ci chiamano pure hanno in azienda per dire voglio fare l'influencer voglio fare il blogger voglio fare però non è quello l'approccio giusto come se uno ti chiama e ti dice voglio diventare ricco e ti dici buona fortuna però non si parte da quello quello diciamo è una conseguenza tu ti inventi una roba che ti rende ricco così come sui social ti inventi una roba che funziona e di conseguenza porta tanta gente a venirti a seguire quindi il primo approccio è capire un attimo perché vuoi fare l'influencer cioè perché tanta gente dovrebbe venirti ad ascoltare o a seguire che hai di interessante da dire che cosa conosci meglio degli altri che quindi puoi insegnare o puoi spiegare agli altri e che contributo diciamo di valore puoi dare oggi sui social soltanto i personaggi che uno segue così magari un calciatore un personaggio della tv perché è già famoso e lo vai a seguire sui social non perché è nato sui social quelli che nascono sui social li segui perché in qualche modo ti danno ti trasmettono un valore in qualche modo ti un valore aggiunto durante la giornata quindi magari segui uno e ti spiega come ti trucchi un altro ti spiega come fare un'altra roba un altro ti racconta una sua esperienza perché magari uno che viaggia un altro magari è un cuoco e ti fa vedere delle ricette quindi ognuno ti dà un valore perché o ti fa vivere delle esperienze che tu non puoi vivere perché magari uno che viaggia per il mondo oppure perché ti in qualche modo ti mostra qualcosa in più è bravo lui o perché te la insegna e ti ti spiega delle cose quindi prima di tutto uno deve richiedersi chi sono io cioè nel senso ognuno di questi ha un'identità ben precisa nessuno di questi fa tutto e parla di tutto ognuno sceglie una nicchia un argomento e dice io sono un appassionato di questa roba qua sono un esperto di questa roba qua e quindi parlo di questo allora ognuno prima di tutto deve capire chi è e chi vuole essere diciamo come personaggio pubblico di conseguenza di che cosa vuole parlare che cosa vuole fare magari uno che mette e gioca a pallone perché il più bravo a palleggiare è palleggia e poi deve capire di conseguenza a chi si rivolge io non nessuno parla a tutti indistintamente ognuno parla a un pubblico quindi c'è una ragazza che magari su youtube fai video di make up fai video di altro e parla alle ragazze che a cui piace un genere magari di moda e altro un altro che invece parla di tecnologia fare recensioni dei cellulari parla un altro pubblico quindi la prima cosa da fare è definire qual è la tua strategia chi sei di che parli di che ti occupi a chi ne parli e perché ne parli in modo tale che un altro dovrebbe ascoltarsi quindi questa è proprio la prima cosa la seconda cosa è tutta strategia a monte la seconda cosa diciamo che è tutta strategia perché su cento che diventa un influencer uno diventa influencer proprio così per una botta di culo per fortuna non lo sa neanche lui perché è diventato famoso e ce ne sono tanti ce ne sono tanti però quelli hanno vita breve perché poi di quelli se non sai sfruttare il tuo trampolino il tuo momento di visibilità cioè diciamo ci sono influencer che hanno un trampolino perché succede una cosa magari fanno un video in cui fanno un'intervista e il video diventa virale iniziano a seguire e quindi è un trampolino ma capita uno su cento e la maggior parte di quelli poi non lo sa sfruttare e quindi passato il momento muore sparisce dalla circolazione tutti gli altri invece tutta gente che ha capito chi è che vuole che vuole fare e ha iniziato a farlo in maniera costante tutti i giorni tutti i giorni tutti i giorni all'inizio non ti fila nessuno nessuno ti ascolta e tu lì è la parte più difficile perché ti arrendi dici e sto qua a fare tutti i post video tutti i giorni nessuno se li guarda smetto invece se tu sei costante abbastanza prima o poi il tuo pubblico ti scopre e ti inizia a seguire è quello che poi ho fatto anche io all'inizio quindi è stato così è stato un passaggio un poca alla volta praticamente fino comunque a ricevere grande soddisfazione eh sì però sì è dura all'inizio io all'inizio quando ho aperto il mio blog scrivevo cinque sei post al giorno sul mio blog e li leggevano cinque dieci otto persone e scrivi 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 e allora è meglio che fare studio e mi preparo per un esame anziché scrivere a vuoto roba che nessuno legge poi però vivendo anche affinato perché capivo che magari non era scritto bene magari avevo sbagliato una roba l'avevo scritta quindi andavo a affinare a migliorare quello che scrivevo fino a quando poi il pubblico aumentato e il mio blog dopo otto mesi lo leggevano più o meno duecentomila persone al giorno e quindi mettendoci la pubblicità le pubblicità si pagavano tantissimo così come i social all'inizio quando feci il record avrò avuto quattro cinquemila follower in social poi dopo il record superai il milione e poi negli anni continuando a fare i vari contenuti ho raggiunto quasi sei milioni bellissimo allora roberto c'è una sorpresa per te una sorpresa e da questo punto di vista chiederei supporto dalla regia per il servizio può essere mandato in onda un'aula consigliare gremita quella che ha ospitato la prima edizione della leopolda cilentana sabato 4 gennaio a vallo della lucania cilento faber ha ricevuto il contributo di imprenditori professionisti gente comune che ha raccontato la propria storia lo schema cinque minuti ad intervento scegliendo una delle sette parole chiave cultura giovani imprenditoria politica sociale territorio e turismo numerose sono state le testimonianze durante le tre ore e mezza trascorse a vallo della lucania numerose le proposte le idee le iniziative per rilanciare il territorio del cilento e vallo di diano molte di queste già avviate la necessità principale che è venuta fuori a cilento faber è quella di fare rete tenendo unito il territorio sempre più schiacciato dai marcati individualismi che fanno il gioco della politica clientelare ma soprattutto il dito puntato sul parco nazionale del cilento che per molti è il fiore all'occhiello del territorio ma che ancora non funziona e allora io dico e ribadisco che la prima cosa che dobbiamo cambiare per migliorare questo paese è la nostra testa dobbiamo capire dobbiamo renderci che l'esperienza degli altri è un punto di forza per i nuovi e quindi ci vuole tutti gli stati noi giovani di capire e di riconoscere le capacità e le esperienze di quelli che ci sono stati prima di noi ma c'è bisogno della capacità e della maturità di coloro ci sono perché vivono in uno dei territori più belli più ricchi di biodiversità in europa questo è il primo dato l'impatto a questa prima grande funzione che non va tratturata non scherziamo con queste cose l'ho fatto anche il battello dei record del mondo uno di questi l'ho fatto un paio d'anni fa sfidando una multinazionale americana che aveva speso un milione e mezzo di euro per fare il post su facebook con più commenti al mondo dato un coupon a chiunque commentava aveva fatto quasi 300 mila commenti io a questo zero ho fatto i 600 mila quindi entrando nell'imile surd record e ricevendo di conseguenza molta visibilità che poi ho indirizzato sulle iniziative che stavo portando avanti sei anni fa 2014 cosa ne pensi ero diciamo era un percorso appena iniziato perché io ero all'università avevo fatto mentre scrivevo la tesi avevo il mio blog che scrivevo da mesi 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 appunto coltivavo e scrivevo della roba e la gente che seguiva il mio blog aveva cominciato a seguirmi su facebook avevo fatto il record e lo stavo raccontando e quindi di fatto era il primo un primo tassello un primo pezzo del percorso e quindi diciamo era ancora all'inizio poi rispetto a tutto quello che è successo dopo non lo immaginavo nemmeno allora sicuramente l'inizio poi di una bella carriera di una splendida carriera allora adesso direi di passare la parola ivana buonasera ciao ciao io ho una semplice domanda leggendo una delle tue interviste sul sul tuo sito mi ha colpito una frase siate affamati siate folli quanto ti rappresenta questa frase quella è una citazione di steve jobs che l'ha reso famoso ed è il fatto del essere ambiziosi nel senso di non accontentarsi se uno nella vita sogna di fare qualcosa appunto a raggiungere un obiettivo deve avere fame di conquista in qualche modo e quindi non a rendersi essere ambizioso essere determinato e lavorare per per ottenerlo diciamo che io in qualche modo è quello che ho provato a fare anche io in questi anni perché mentre studiavo all'università avevo una serie di altre passioni che ho continuato a coltivare anche se insomma se tu mentre studi ingegneria stai al pc a scrivere sembra che stai a giocando ai videogame anziché pensare a fare le cose serie io però era una cosa in cui credevo e credevo che potesse avere un futuro anche importante non solo come passatempo e quindi l'ho continuato a coltivare e poi perché diciamo che io come ambizione dato che mi piaceva fare tante cose diverse e internet un po mi dava la possibilità di fare tutte queste cose che puoi fare un video poi domani fai un evento poi domani scrivi una roba a che fare con tantissime persone diverse dalle aziende agli artisti a qualsiasi cosa era un po quello che io provavo a fare nel senso che provavo a costruire un meccanismo una struttura tale dove poi qualsiasi idea avevo potevo in qualche modo dedicarmi a quell'idea e quindi non dire io nella vita ho questo lavoro e faccio questa cosa qua ma io nella vita in qualche modo mi vengono in mente delle idee o dei progetti e ho le risorse e ho la possibilità di dedicarmi e poterci lavorare quindi è quello che ho provato a fare quello che provo a fare ancora adesso perché ancora ce n'è da fare e tanto da fare ancora adesso direi di passare la parola ad alessandro salve buonasera roberto se ti trovassi in un'epoca dove intorno dove non ci fosse internet come ti vedresti ora allora sicuramente sarebbe molto diverso proverei sicuramente a fare quello che ho fatto adesso però per me internet è sempre stato un mezzo uno strumento per raggiungere un obiettivo cioè io sono io sono di vallo voi siete pieni tutti del cilento io sono andato a vallo e ho studiato a vallo ho fatto il liceo a vallo e mentre fatto per me internet è stato un po lo strumento perfetto perché era mi dava una sorta di finestra sul mondo cioè io da lì da casa mia potevo vedere tutto quello che succedeva nel mondo tutto quello che faceva chiunque altro in qualsiasi posto nel mondo e potevo allo stesso modo sfruttarlo per me come un palcoscenico raccontando mostrando quello che volevo fare che sapevo fare io a costo zero a chiunque quindi per me è stato un po il trampolino lo strumento tramite cui lanciare tutto quello che ho provato a fare se non ci fosse stato internet mi sarei dovuto inventare un altro strumento sicuramente diciamo magari con un'amplificazione minore e quindi magari negli anni settanta quelli che oggi fanno che provano a fare gli influencer che provano a farsi conoscere tramite internet erano quelli che inventavano le radio le radio libere dove accedevano delle frequenze e provavano a fare la propria radio gli anni 70 80 si faceva molto questa cosa qua perché anche quello era molto accessibile anche a livello economico rispetto magari uno che invece aveva una televisione o altro oppure provano a fare gli scrittori nel senso che nella storia tante persone hanno provato ad emergere a farsi conoscere inventandosi qualcosa e sfruttando gli strumenti dell'epoca quindi c'era chi scriveva chi faceva radio chi faceva tv e oggi invece è tutto quello che vediamo su internet con gli influencer con le aziende che nascono online io ho fondato un'azienda grazie a quello che avevo costruito su internet altrimenti probabilmente non ci sarei riuscito va bene adesso possiamo dire che tu vivi d'internet giusto possiamo dire di sceccata il computer però sì perché perché di fatto io poi per raccontarvi un po come è andata io ho fatto il mio blog dal blog della gente mi ha iniziato a seguire sui social sui social mi sono inventato una serie di cose come il record che vi ho raccontato queste cose sono state notate quindi i giornalisti parlavano di me e più gli articoli uscivano più gente mi veniva a seguire quindi più in qualche modo il mio potere di lanciare nuove idee aumentava fino a quando poi non mi hanno iniziato a coinvolgere in vari progetti e in varie iniziative anche esterne e a un certo punto ho capito che poteva diventare un vero e proprio lavoro e quindi decisi di provare a fondare un'azienda che faceva di fatto quello che io facevo per me stesso quindi anziché promuovere me stesso potevo promuovere un brand un'azienda un personaggio pubblico eccetera e quindi di fatto poi è diventato un lavoro roberto vuoi condividere con noi il segreto per farcela e per saperlo il segreto per farcela è senza dubbio un po legato anche quello che dicevo prima sugli influencer nel senso che anziché provare il risultato è una conseguenza anche a livello economico è una conseguenza perché tu a monte hai una strategia hai capito bene chi sei che cosa vuoi fare e ti studi la strategia giusta per riuscirci quindi i contenuti eccetera oggi internet è uno strumento che permette a chiunque non solo chi vuole fare qualcosa legato a internet di avere una grande visibilità cioè anche in qualsiasi altro ambito qualsiasi altro mestiere faccio un esempio su linkedin ci sono avvocati commercialisti professionisti esperti di finanza che diventano famosissimi e cercano ottengono nuovi lavori eccetera perché si fanno conoscere tramite tramite quello ma così come negli ultimi anni gli chef insomma fashion blogger eccetera quindi diciamo oggi internet è un strumento che comunque va a monopolizzare qualsiasi settore ci sono che perfino le pompe funebri stanno su facebook e hanno e hanno successo quindi davvero gli draulici c'è chiunque quindi oggi è comunque un amplificatore per chiunque se lo sai usare nel modo giusto il problema è che devi capire un attimo tu chi sei che cosa vuoi dire e devi chiederti perché le gente dovrebbe ascoltarti se trovi la risposta a questa domanda e inizia a parlare con costanza e a creare cose che danno un valore a qualcun altro allora la gente è solo questione di tempo prima che inizia a seguirti e poi chi ti segue su internet inizia si chiama fidelizzazione proprio il processo nel senso che se io tutti i giorni ti seguo è perché tu parli di una roba che mi interessa mi fido della tua opinione e quindi a un certo punto se tu mi dici guarda questo smartphone fa schifo e questo è buono io mi prendo della tua opinione e compro quello che è buono e se un domani io mi trovo nella situazione per cui mi serve faccio un esempio un avvocato che è quell'avvocato su LinkedIn famosissimo che ne parla sempre che è il migliore io chiamo lui e quindi prima si crea un rapporto di fiducia con le persone che mi seguono poi si crea una sorta di influenza dell'opinione di chi mi segue fino a quando questa cosa si converte anche in una cosa commerciale per cui se un domani uno di voi faccio un esempio che ha bisogno di gestire i social della propria azienda chiama me perché magari mi conosce e mi segue e quindi si fida della qualità del mio lavoro quindi il processo è un po' questo Allora Roberto noi ti ringraziamo della tua presenza purtroppo siamo qui a parlare fino a domani purtroppo il tempo stringe e quindi non è possibile dobbiamo chiudere qua ringraziamo ancora per la presenza grazie mille grazie mille a voi ragazzi volete salutare Roberto ragazzi? ciao Roberto ci ha fatto piacere sentire la persona che ce l'ha fatta ma ce l'ho fatta ancora ce ne vuole però va bene però c'è un buon punto c'è un esempio grazie in bocca al lupo per tutto crepi grazie ANG in radio più di prima l'agenzia giovani nel tuo territorio da Agropoli Generation è tutto progetto finanziato dal bando ANG in radio più di prima di agenzia nazionale per i giovani grazie ai fondi del dipartimento politica giovanivi e del programma europeo Erasmus Plus grazie a tutti